Metto, se perdo è finita Sì Fabio, ti puoi mettere in behind se vuoi Se perdo è finita Se perdo la finisco qua Dammi una donna, dammi una donna Blackjack sull'ultimo box, 8 e 15 15 Oh mi portiamola a casa? Cosa vuoi portare a casa? Giorgio ciao ben arrivato Troppo 19 stai? 19 stai? E blackjack 16 Come regolamento? 17 3 vincitori Congratulazioni Ancora Boris Blackjack per te Pagamento una volta e mezza La tua puntata Ora mi vesto di nero Fabio Se ti ho fatto perdere tutto Più nero ancora Grazie a tutti Più nero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti